Elena, grazie a tutti. La cosa più bella è essere qui a Oderzo con voi oggi. Sono felice che il mio posto abbia fatto il giro dell'Italia e che il sentimento della categoria della ristorazione sia stato portato in tutte le trasmissioni televisive. Ma credetemi che gli facciamo un baffo a Barbara D'Urso! Evviva Leo Petergini! Evviva noi! Grazie a tutti, grazie per essere qui. Vedo che siamo tanti e questo mi fa enormemente piacere. Nei prossimi giorni stasera andremo un po'... no, rimaniamo al calozio ma daremo voce al pensiero, insomma, un po' di tutti voi. E quando insomma mi chiederanno di com'è la mia terra, io gli dirò che io amo la mia terra e che noi ci rialzeremo e torneremo più forti di prima, perché forse non sanno come siamo fatti noi qui, ok? O Petergini! O Petergini! O Petergini! E quindi insomma, grazie davvero a tutti per l'affetto che ci state dimostrando, ma porto solo, diciamo, la voce di tutte le persone, di tutti i miei amici, di tutti i colleghi che stanno lottando contro questo DPCM che è fatto da persone che non conoscono il nostro settore, non conoscono il nostro lavoro e ci danno delle regole che vogliamo rispettare, no, dobbiamo rispettare, ma che stanno facendo chiudere le nostre attività e noi non lo vogliamo fare. Il lavoro ci dà dignità, noi siamo un popolo dignitoso e porteremo avanti insomma alle nostre idee e ritorneremo più forti di prima. Ciao!